Ciao, sono Jacopo Mosca, abito a Osasco, ho 26 anni e nella vita faccio il ciclista. Sono qui a scuola quest'oggi nell'Istituto Maria Immacolata di Pinerolo, in occasione del settantesimo anniversario della Cuneo Pinerolo, questa mitica impresa di Fausto Coppi, che quest'anno verrà riproposta nella tappa del Giro d'Italia. La bicicletta per me è sempre stata una passione. Ho cominciato a correre, a gareggiare all'età di 11 anni, da lì non ho mai smesso e continuo tuttora a farlo. Fausto Coppi è uno dei più grandi, le sue imprese raccontano la vera storia del ciclismo. Il Giro d'Italia è un evento che coinvolge tutti, è perché è comunque un giorno di festa in cui tu vedi da vicino quello che vedi normalmente alla televisione. L'andare in bicicletta adesso ha un problema, la sicurezza sulle strade. E questo secondo me è un tema da parlarne perché c'è una campagna che è il tifateci e rispettateci. Sulla bicicletta siamo una persona e siamo l'anello debole della strada. La bicicletta non è solo pericolosa però. Un genitore non può aver paura di dover mandare il figlio in bici. Ci riflettiamo tutti sulla sicurezza per le strade. Vi aspettiamo il 23 maggio a Pinarolo in occasione del Giro d'Italia. Non mancate!